Siamo con Stefano Mengozi dopo la vittoria da tre punti della Consa Ravenna sulla Chioene Padova. Mengo, anche questa sera si è vista la squadra, parlavamo prima con Checco, si vede che siete uniti, vi allenate bene. Qualche difficoltà c'è stata chiaramente anche questa sera, però avete reagito, poi siete venuti fuori alla grande con tutti, direi proprio veramente tutta la squadra. È un'impressione la mia o è così? No, no, è così, insomma, siamo partiti un po' tesi, eravamo, poi vincere il primo set diciamo che ci ha aiutato un po', anche se abbiamo continuato un po' a essere fallosi, soprattutto in battuta, e magari poteranno gestire qualche attacco meglio, soprattutto nel secondo set, dove loro hanno avuto la meglio, però poi la cosa positiva è che terzo e quarto set abbiamo imposto abbastanza il nostro gioco, la nostra battuta è decisamente cresciuta e si è visto anche in difesa, insomma, è stata veramente una vittoria di squadra, anche nel quarto set sono entrati tanti ragazzi che quest'anno hanno avuto meno spazio, però hanno dimostrato di poterci stare, perché il quarto set secondo me è stato probabilmente quello che abbiamo giocato più di squadra, non voglio dire meglio, ma abbiamo veramente, è stata una prestazione corale di squadra. Parliamo di Verona, tu sei un ex, bisogna andare a vincere anche là, provare a vincere a Verona, perché sarebbe molto importante per puntare alle semifinali, ormai diciamo che questa partenza lanciata può portare la squadra a puntare a qualcosa di veramente importante per giocarsi qualcosa. Sì, 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 adesso prepareremo la partita di Verona, domani ci prendiamo un giorno libero, perché comunque tante partite ravvicinate, anche fisicamente si fanno sentire, si faranno sentire, quindi inizieremo a prepararla da venerdì, sarà una trasferta non facile, comunque perché Verona è una buona squadra, però noi insomma siamo convinti del nostro potenziale, cioè giochiamo una partita alla volta, poi la classifica ci dirà quello che dovremo andare a fare alla fine. Ok, complimenti a Stefano Mengozi, torna alla linea al collega per la chiusura del match dal Carisport di Cesena di questa sera.